Importantissimo il gol, tu o Nicola, perché è il gol che dà la speranza e il gol che permette al Pescara di poter guardare con un po' più di fiducia la partita di ritorno. Sì, era importante uscire da qui almeno con un risultato che non fosse a sfavore, perché comunque noi una partita delle due la dobbiamo per forza vincere, quindi a noi non conta se in casa o fuori dobbiamo vincere. Il gol è stato gran parte merito anche di Cernigoi che ti ha dato un gran pallone in una partita che non era stata facile per te. No, sicuramente è stata una partita molto complicata, io ho corso tanto, era da un po' che non giocavo, sono stato male nell'ultimo periodo, quindi sicuramente Cernigoi ha saltato in cielo, però l'importante è poi dopo averla messa dentro e dare la possibilità adesso di preparare la partita di giovedì come se fosse una finale, avremo bisogno sicuramente dei tifosi, quindi è inutile dircelo oggi più che mai, abbiamo veramente bisogno di loro. Assolutamente, Nicola, sarà una trasferta comunque lontana, perché Salò non è certo dietro l'angolo, ma la piazza Biancazzurra quando conta non ha mai fatto mancare il suo apporto. Che cosa ti è mancato nel primo tempo per cercare l'uno contro uno vicino all'area? Perché Zauri aveva detto ieri con gli esterni possiamo fare male. Sì, no, la cosa che notavo è che quando ricevo palla venivo sempre raddoppiato, però sicuramente c'è qualcosa da sistemare, poi dopo dovevo entrare ancora un po' più in confidenza con la partita, ripeto, era un po' che non giocavo, però sicuramente io devo e posso fare meglio e lo farò. E soprattutto ci sarà la partita di Salò fondamentale dopo un altro gol di Rauti, sarebbe bellissimo. Sì, innanzitutto questo lo volevo dedicare a mia mamma, perché comunque come festa della mamma, un bacio a lei che siamo lontani e i voglio bene. Poi dopo lo volevo dedicare anche a mio zio che mi sopporta sempre, da sempre, da quando ero piccolo, mio zio Sandro.